ok allora salve nel momento in cui voi state guardando questo video questo canale ha già cambiato nome vedrete infatti che qua sopra c'è scritto voci dal sottobosco perché ho voluto cambiare da her poison veil a voci dal sottobosco per alcune ragioni una di queste è senza dubbio il fatto che her poison veil è troppo difficile da ricordare per alcuni molti non lo sanno pronunciare e mi ricordo quando un po di tempo fa qualcuno mi fa com'è il tuo canale com'è che si chiama her poison veil e tipo scrivevano male e non gli veniva fuori tipo scrivimelo tu e mi toccava prendere il loro telefono scrivere her poison veil e che palle e quindi voci dal sottobosco ora voci dal sottobosco che cos'è voci dal sottobosco era un nome che io avevo pensato per una sorta di piccola community sui social per mettere in contatto praticamente le band i locali in pratica quello che fa tocca zone praticamente solo che io non sono uno che si impegna troppo sui social quindi no ho lasciato perdere perciò chiamerò questo canale voci dal sottobosco e c'è anche un'altra ragione un'altra ragione allora quando ho aperto il canale youtube avevo iniziato a caricarci praticamente i pezzi che io facevo da solo no e pezzi che peraltro non si trovano li ho messi in privato non si possono più sentire perché a un certo punto ho cominciato a pubblicare per bene la musica che faccio io da solo cioè su bandcamp su spotify ci vorrà un po più di tempo per spotify perché siccome pubblico tramite i musician si paga si paga è un servizio che si paga non si paga annualmente si paga a uscita però i dischi restano lì una cosa che io avevo riscontrato di male tipo con distrokid che è stata la prima piattaforma che ho usato è che tu non paghi l'uscita non devi dar loro dei soldi per far uscire un disco anzi puoi farne uscire veramente quanti te ne pare il problema è che nel momento in cui tu l'abbonamento scade tu non paghi la quota di 20 ormai penso che siano anche di più dollari annuali i dischi praticamente ti vengono tolti dalle piattaforme di streaming quindi ho detto a questo punto meglio di no meglio pagare una volta e il disco resta lì e quindi siccome si paga con calma in teoria potrei benissimo fare ogni mese a dire a mettere su spotify e sulle piattaforme più immediate perché ben che non è una piattaforma molto immediata potrei farlo ogni mese però spesso mi dimentico e tipo sto mese per esempio dicembre lo potrei fare però devo anche cambiare le gomme alla macchina e ho anche comprato dei pacchetti di suoni di suoni per per iniziare a fare della musica perché sto siccome sono un grande amante delle colonne sonore mi sto prodigando a fare anche quel tipo di cosa così per mio lo pubblicherò ovviamente però per diciamo che è una sorta di a non è neanche ambient avete presente la colonne sonore così e quindi diciamo che per questo mese i soldi ho speso poi comunque natale quindi devi fare un regalo classiche cose del periodo natalizio quindi sì adesso con la tredicesima pubblicherò anche un di cioè caricherò anche un disco sulle piattaforme streaming quelle immediate diciamo bene e quindi in pratica la questione era che praticamente her poison veil e il canale sono due cose che non c'entrano più nulla perché her poison veil essenzialmente è sono io che faccio musica io non so se avete notato io veramente di rado l'ho fatto veramente in pochissime occasioni dire benvenuti sul canale her poison veil probabilmente non l'ho mai fatto quindi voci dal sottobosco da ora in poi sarà il nome di questo canale perché ha anche senso visto che tratto di musica prettamente underground a parte alcune cose molto più grosse ma a me piace parlare più di underground che di mainstream e mi dà molto più soddisfazione per quanto parlare di mainstream serva comunque a mantenere il canale un po' in visibilità giustamente tanto normale così ok volevo solo dire questo quindi bene grazie a tutti